Sindaco Giacomo Pascale, torniamo sulla questione della vicenda che ha visto coinvolto un tassista e sette ragazzi. Sì, se ne ha parlato io penso anche abbastanza, soprattutto il messaggio che è passato io penso sia sbagliato, perché la tratta del TAC si è regolamentata dalla tariffa predeterminata e dal tassametro. Appare evidente che questa terza via di un accordo tra l'autista e le persone che hanno soffruito del servizio l'hanno accettato e quindi quello che non trovo giusto è che poi abbiano ripreso il conducente e abbiano poi fatto tutto il tam-tam che è venuto fuori. Ecco, da questa vicenda scaturisce una questione atavica, si potrebbe regolamentare per tutti e sei i comuni una tariffa unica? Non è un problema di tariffa, le tariffe sono già allineate, nel senso che la tratta all'acqua meno di schiaporto è 30 euro. Poi alcuni comuni applicano anche un supplemento dopo la quarta persona, l'acqua meno no, perché io ritengo che vada regolamentata la tratta in relazione alla tipologia di mezzo indicato per svolgi di servizio. Quindi sei o nove posti con conducente significa che fino a otto posti prendi 30 euro e se porti una persona sola prendi sempre 30 euro. Ma questo attiene alle singole disposizioni. Per quanto riguarda il caso nello specifico la tariffa è evidente che poteva arrivare massimo a 39 euro, ma ripeto, in questo caso assolvo il tassista perché evidentemente si sono messi d'accordo prima e non trovo giusto che poi alla fine della corsa l'accordo che hai fatto non puoi mantenerlo. Far passare il tassista per disonesto secondo me non va bene. E quella categoria dei tassisti chiede appunto magari una regolamentazione che arrivi dall'alto? Ma non è questo. Vede, io ho una visione anche per questa categoria che penso a mio modestissimo parere non ha futuro. Non ha futuro con questa tipologia di mezzo, non ha futuro con queste tariffe sempre a rialzo. Io penso che la tipologia dei tassi debba essere rivista massimo 4 posti, 5 posti, un solo mezzo per tutta l'isola, abbattimento dei confini amministrativi finalmente e quindi strutturarli con la categoria, magari col taxi cumulativo, magari con una cooperativa, magari con Radio Taxi, insomma attualizzare meglio la categoria. Io penso che così com'è non abbia futuro.